La guerra giudiziaria tra comune ed abusivi è stata vinta dai cittadini licatesi che hanno costruito senza licenza edilizia. Il Tribunale di Egrigento ha infatti accolto le tesi difensive dell'Avvocato Gaetano Cardella ed ha annullato due ordinanze rispettivamente di 62.000 euro e di 6.250 euro, emesse in danno di due proprietari abusivi, condannando la società Engineering, che riscuote i tributi per conto del Comune di Licata, a pagare le spese legali liquidate a favore dell'Avvocato Cardella. In sostanza, il Tribunale ha annullato due cartelli di pagamento che erano state notificate dai due proprietari di immobili per il cosiddetto sine titolo, cioè l'occupazione senza titolo, degli immobili già acquisiti al patrimonio del Comune. Significa che per l'occupazione delle villette abusive, che nel frattempo sono passate alla proprietà dell'ente locale, essendo rimaste nella disponibilità degli ex proprietari, il Comune aveva chiesto di pagare una sorta di affitto. Alla fine del 2015, il Comune di Licata si era attivato per recuperare le indennità di occupazione degli immobili abusivi nei confronti dei cittadini licatesi e non solo, che avevano ricevuto l'ordinanza di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto le costruzioni erano realizzate in assenza di concessione edilizia e quindi erano, a tutti gli effetti, immobili abusivi da demolire. Il Comune di Licata aveva avuto non poche difficoltà, anche per la mancanza di risorse finanziarie, vuoi per la riduzione dei fondi nazionali e regionali e per la soppressione del licio, ad approvare i bilanci dal 2015 al 2012. Le amministrazioni che si sono succedute in questo arco di tempo, Graci, Balsamo e Cambiano, avevano individuato una risorsa certa da inserire in posta al bilancio ed avevano pensato di far pagare a tutti gli abusivi l'indenità di occupazione, cosiddetto sine titulo, per aver occupato per anni, anche per decenni, immobili che nel frattempo, pur restando nella disponibilità degli ex proprietari, erano stati acquisiti dal patrimonio comunale. Così il Comune, avvalendosi della società Engineering, che riscuote i tributi, aveva notificato delle ordinanze e ingiunzioni chiedendo agli ex proprietari il pagamento di somme considerevoli, in alcuni casi 60.000 euro fino a 120.000 euro. La maggior parte degli abusivi ha impugnato le ordinanze contestando la legittimità delle cartelle e il Tribunale di Egrigento ha accolto i primi ricorsi. Questa sentenza mette in difficoltà il Comune perché adesso dovrà essere rivista la posta di bilancio delle somme in entrata che era rappresentata dalle indennità di occupazione. E se l'orientamento del Tribunale o delle commissioni tributarie a cui si sono rivolti i cittadini per l'annullamento delle cartelle sarà quello di annullare appunto le ingiunzioni, l'ente si troverà in seria difficoltà, considerato che oltre alla mancanza di liquidità il Comune di Licata ha un pesante fardello di indebitamento di oltre 40 milioni di euro. Intanto gli operai della ditta patriarca stanno continuando a debolire l'immobile del pisciotto che era stato individuato lunedì mattina. Le operazioni vanno a rilento anche perché il materiale di risulta viene trasportato in una discarica autorizzata di Favara e i mezzi della ditta fanno spola con la città dell'agnello una volta riempiti i camion di inerti. Si attende anche l'esito del ricorso urgente presentato dal Presidente del Comitato per la tutela della casa Angelo Curella che ha impugnato davanti al giudice delle esecuzioni del Tribunale di Egrigento per tramite dell'Avvocato Giuseppe Arnone l'ordine di demolizione che era stato notificato lunedì mattina allo stesso da parte della Procura per la demolizione della sua villetta costruita al pisciotto. Curella ha dichiarato che se il ricorso non verrà colto provvederà autonomamente a demolire il villino.